Ciao ragazzi, sono Smartphone, un millennial come voi. Sapete il significato del mio nome? Beh, letteralmente telefono intelligente. Infatti in me sono racchiuse le caratteristiche comunicative di nonno telefono, la velocità di papà internet e l'intelligenza di mamma computer. Oggi tutti mi desiderano perché so fare tante cose, telefonare, fotografare, navigare, ciottare, tradurre, calcolare. Ma la cosa più importante che so fare è ascoltare. Così come ho fatto con i miei nonni e i miei genitori, ascoltare i loro insegnamenti e le loro storie mi ha reso responsabile, autonomo e indipendente. Inoltre ho avuto e ho la fortuna di avere sempre al mio fianco la Polizia di Stato, che mi accompagna con i suoi consigli nel mio percorso di crescita. Sì, perché non si finisce mai di imparare. E voi avete appreso la giusta consapevolezza nell'uso dello smartphone. Un consiglio per pilotare in sicurezza uno smartphone. Ascoltate anche voi i vostri genitori. Vi aiuteranno a trovare gli ingredienti giusti, consapevolezza, amore ed energia, indispensabili per costruire un dialogo con me.